Allora, Maurizio Salvi, titolare della ditta M-Staff Catering di La Spezia, in via Molfacone numero 332. Cosa ci propone quest'anno a San Silvestro, alla Spezia? Allora, noi quest'anno facciamo veramente un capodanno esplosivo a Forte Macè, in via Montalbano, località La Foce, a 10 minuti dalla Spezia. Presentiamo una cena con un benvenuto a vassoio, un flutto di bollicine e tartelletta al salmone delicata, un gran antipasto, capessante e gratinata al burro e brandy, polentina grigliata con ragù leggero di mare, triangolo di sfoglia con taleggio e pere, piccola quick con tocco di porcini, nidi di patate con cotechino e lenticchie. Questi sono gli antipasti. Poi si passa ai primi piatti, che sono due ravioli di pesce con ragù di aragostelle, risotto a roquefort con mirtilli e pinoli tostati. Per passare ai secondi piatti, che sono bocconcini di pescatrice con vellutata di lenticchie, filetto di maialino alla liquirizia con fonduta di cipolle di topea, dolci, tiramisù alla fragola, fantasia di frutta, panettone e pandoro, brindisi con spumante brut e dolce, caffè, acqua naturale e gasata. Dalla nostra cantina, vermentino dei colli di luni, rossi di luni, cantine federici, prosecco valdobbiadine, spumante dolce. Per info, 338 691 70 97. Ricordiamo Maurizio che è presente anche a Musica dal Vivo, anni 60, 80, 80 e 90 e contemporanea. Il tutto a 70 euro. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!